Io adesso non voglio intervenire su situazioni specifiche, voglio soltanto fare un'osservazione. Il Movimento 5 Stelle ha fatto della credibilità la sua parola d'ordine. Ora, se tu dici, no, io non voglio gli inceneritori perché ritengo che questa scelta sia sbagliata e poi lo fai, lì è una questione di credibilità. Ma era costretto, non poteva fare altrimenti. Bene, allora ti presenti di fronte alla tua cittadinanza e dici, signori, io ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta, rimetto il mandato. Oppure ditemi voi, posso andare avanti, mi sarei presentato in questo modo. Cioè, bisogna chiaramente dire, io mi sono presentato con questo programma, non sono riuscito a realizzarlo. Magari c'erano delle condizioni obiettive che non me lo consentivano, ma abbi il coraggio di presentare, non fare come gli altri. C'è rischio che alla fine diranno, ma allora sono uguali agli altri. Dicono una cosa prima delle elezioni e dopo le elezioni fanno la cosa opposta. L'ammiccamento di Grillo nei confronti di Farage è stato discusso all'interno del Movimento 5 Stelle. Qualcuno dice, ma che ci azzecca, come direbbe Di Pietro, il Movimento 5 Stelle con Farage? Beh, è molto semplice. Ferege ha rappresentato il suo partito, gli UKIP, l'unica forza di opposizione nel precedente Parlamento europeo. L'unico che gridava contro l'eurocrazia, l'unico che gridava contro il fiscal compact, l'unico che ha fatto una politica veramente di rottura nei confronti dell'alleanza tra il PPE e il PSE. Quindi direi che come forza antagonista, il Movimento 5 Stelle non poteva che, essendo costretti a livello europeo di un'alleanza, sarebbe stata l'alleanza naturale. Ma non c'è più contingenza con i Verdi anche per i programmi? Ma i Verdi... Cioè, Grillo ha parlato anche nei sospettacoli tanto del verde nel tema... Ma i Verdi in Italia non esistono più perché esiste il Movimento 5 Stelle, poi non so se vi ricordate Pecoraro Scania, quindi diciamo tutti i Verdi per l'Italia sono... Ma i Verdi in Europa sono i Verdi tedeschi, i Verdi tedeschi sono un puntello del sistema, non sono più i Verdi tedeschi del 1980. Verdi, Ferragi, lei cosa vota? Ma io la mia... Di... Non chiaro, di mosso da qualcosa in alto di noi? Renzi è soltanto la malattia senile del berlusconismo. Cosa vuol dire? La malattia senile del berlusconismo, cioè è la continuazione di quell'esperienza. Speriamo che non duri come è durato tanto Berlusconi, tutto lì, ma è la continuazione di quel tipo di esperienza, ecco, non c'è una rottura radicale. Mentre Berlusconi è stato l'uomo sbagliato nel momento giusto, nel 1994, Renzi è stato e tuttavia è stato l'uomo giusto nel momento giusto, perché se non ci fosse stato Renzi in questo momento, insomma, le votazioni europee con l'ETA sarebbero andate sicuramente diversamente.